Ormai siamo in piena estate, è sabato sera e le telecamere di Notti Brave sono state di nuovo invitate qui al Panorama, sul magico litorale di Fusaro. Ragazzi, non ci resta altro che goderci questa serata. Io sono Alessandra, queste Notti Brave, a voi le immagini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.